Doveva essere pronto quattro mesi fa e invece per il nuovo depuratore del sinarca di Termoli bisognerà ancora aspettare. E il problema è che non si sa quanto. Di mezzo le inedempienze e i ritardi della ditta che lo ha costruito, la Dondi, con cui l'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca a inizio estate ha deciso di rescindere il contratto. La conclusione, il collaudo dell'opera è stato affidato ad un'altra società. Sembrava un lavoro di poche settimane, le cose però stanno andando per le lunghe anche perché il nuovo direttore dei lavori si è accorto che tra le carte manca il cosiddetto collaudo dei ferri che andava fatto durante la realizzazione del modulo. Dunque ora ci vorrà ancora altro tempo. Nessuno si sbilancia, intanto i disagi per i cittadini continuano. Non si può ad esempio andare a vivere nuove case, in quanto i nuovi allacci alla rete idrica sono ormai bloccati dallo scorso mese di febbraio. Emblematico il caso del palazzo IACP di Contrada Colle Macchiuzzo, pronto da quasi un anno e cui appartamenti non possono essere assegnati proprio per questo motivo, ma di esempi ce ne sono a centinaia. Negli ultimi tempi, come confermato dalla Crea, sono stati almeno sbloccati i subentri e quindi nei trasferimenti da una casa all'altra, quando l'allaccio è già esistente, non ci sono più problemi. Solo dal momento in cui il nuovo impianto del Sinarca sarà aperto ci sarà un alleggerimento della portata dei reflui verso il depuratore del porto di ben 12.000 utenze e solo allora il problema dei nuovi allacci per i cittadini si risolveranno in attesa che l'impianto del porto, vecchio e malandato, venga col tempo dismesso.